Siamo arrivati cari amici Globus Television da Antonella Guglielmino. Oggi nuova puntata, qui con me c'è il dottor Giuseppe Arnone, presidente della Fondazione Italiani in Europa. Ben arrivato. Buonasera. Allora, ci spieghi un po' cos'è questa fondazione, qual è l'obiettivo? La fondazione è un organismo non governativo che ha una funzione di reclamizzare, internazionalizzare, promuovere tutto quello che c'è di meno in Italia e in Europa. L'abbiamo chiamata Fondazione Italiane in Europa perché riteniamo che l'italiano, l'italiano in Italia e l'estero abbia una condizione di vantaggio in quanto rappresenta un territorio, una nazione, un popolo che ha una storia che affonda la radici nei tre millenni di storia, un popolo, una nazione che ha il 80% del patrimonio archeologico mondiale, una nazione che ha dentro di sé tutta quella che è la moda, il designer, soprattutto l'idea, perché noi italiani pensiamo a colori all'estero, questo fa brand e quindi il brand nostro è l'italianità all'estero, l'internazionalizzazione dei prodotti. Perché l'abbiamo chiamata Fondazione Italiane in Europa? Perché in virtù del fatto che l'Italia in Europa e i suoi cittadini contribuiscono alla formazione molto consistente del prodotto internazionalotto delle nazioni dove lavorano, dove interagiscono, dove intraprendono, l'abbiamo chiamata Fondazione Italiane in Europa perché l'italiano all'estero produce un grande reddito, una grande potenzialità economica per quei paesi dove lavora. Sono d'accordo con lei, dottor Arnone, dobbiamo dire che in Italia purtroppo ahimè c'è la fuga dei cervelli e molte volte delle persone molto intelligenti, bravi, preparati, vanno in Inghilterra, in Romania, vanno in Germania e l'Italia ahimè si sta depauperando delle sue intelligenze. Il compito principio proprio della nostra fondazione è questo, di recuperare le intelligenze ma anche i patrimoni economici che vanno all'estero perché noi riteniamo che attraverso il circuito dei sapori, della gastronomia che abbiamo portato avanti e soprattutto la festa eccellenza italiana in Europa che premia collegando il territorio italiano a quello europeo tutte le grandi opportunità che hanno saputo costruire gli italiani all'estero, premia a singole persone, aziende. Noi riteniamo che facciamo una funzione di ritorno, una grande funzione di ritorno verso i territori da dove sono nati, dove sono cresciuti. Ad esempio una delle cose che noi diciamo nei nostri incontri istituzionali con i consoli e i diplomatici italiani in Europa è quello che dobbiamo favorire fortemente lo studio della lingua perché molto spesso ci sono italiani che sono sposati all'estero, che hanno quindi avuto dalla coppia i bambini, i ragazzi devono stare a studiare la lingua italiana in Europa. In Romania c'è un centro importante, ad esempio che io conosco direttamente, il centro Aldomoro dove ci sono anche cittadini che non sono italiani che studiano la lingua italiana. Come voi sapete oggi la lingua italiana è la quarta lingua più parlata al mondo ed è la quarta lingua più utilizzata per quanto riguarda il discorso della socialità e dell'umanesimo culturale. Quindi ritengo che oggi la rappresentatività dell'Italia all'estero debba essere rafforzata, debba avere una capacità di collegamento con i nostri cittadini perché molto spesso, diciamocelo chiaro, quando io giro cerco anche di capire quali sono i problemi che interessano gli italiani che sono quelli di una rete consolare che a volte non funziona per il meglio, di una rete predatoriale che a volte non è assecontata bene da quelli che sono gli istituti per la promozione del commercio con l'estero e in questo mi ha portato, mi ha spronato mentalmente a fare questa grande avventura insieme a tanti amici che stanno oggi condividendo un progetto che è il progetto dell'Italia al centro dell'Europa. Quale iniziative intendete intraprendere? Attraverso quindi la funzione che è compito, il primario della fondazione è quello di fare tante piccole tappe nelle città più alta presenza di cittadini italiani in Europa, fare delle feste, portare avanti il food italiano, fare della gastronomia anche delle mostre ma soprattutto presentazioni di libri che interessano anche il territorio dove gli italiani per ora si trovano per appunto condizionare e iniziare un ragionamento che è non solo culturale ma anche economico. Oggi le grandi aziende fanno la loro parte ma le piccole e medie aziende possono esportare all'estero se noi facciamo capire la generosità dei nostri prodotti, la qualità delle nostre produzioni orticole, delle nostre produzioni delle olive, di tutte quelle che sono le arance, tutte quelle che sono le arance, si è stata la settimana passata, ha partecipato a Parigi nell'ambito della settimana mondiale della cucina italiana alla promozione dell'arancia di Ribera dove un cuoco bravissimo ha fatto degustare dal riso fino al secondo di pasto attraverso l'essenza dell'arancia di Ribera che è stata promossa dalla Prologo, quindi un'iniziativa che ti porta economia, che porta bellezza, che porta soddisfazione ma che porta soprattutto apertura di nuovo mercato economico per l'Italia. Lei è innamorato della sua terra, la Sicilia dell'Italia, tanto che si stanno avvicinando alle elezioni e lei che cosa ha pensato di fare? Io oggi, prima di venire qua mi sono sentito in macchina l'inno della Sicilia che è Sicilia è bella mia, è un inno bellissimo che sentendo e vedendo il video ho visto cosa noi abbiamo la terra più bella del mondo, nove mesi, l'anno di sole, tutti vorrebbero essere siciliani e noi che lo siamo purtroppo a volte non meritiamo di esserlo, nell'eccezione dei termini perché la Sicilia nella sua interezza e nell'orgoglio della sicilianità o della sicilitudine di cui parlava Sciaccia Deporata, tutti i problemi che abbiamo, delle grandi emergenze e delle cose che noi purtroppo ci portiamo dietro come retaggio storico. Oggi la Sicilia deve essere rappresentata in Europa, allora io insieme agli amici abbiamo pensato di porre la nostra candidatura all'attenzione degli italiani all'estero mettendoci al loro servizio, candidandoci al Collegio Europa della Camera dei Deputati, quali possibili rappresentanti degli italiani che interagiscono in Europa. Secondo lei nelle passate legislature che cosa non ha funzionato soprattutto per tutelare gli italiani all'estero? Ultimamente abbiamo assistito alla Brexit, quindi questa Europa un po' che si è venuto a mancare un pezzo importante che appunto era la Gran Bretagna. Allora, l'italiano all'estero è garantito da una legge costituzionale proposta da un uomo straordinario che si chiamava Mirko Tremaglia, il quale lottò tutta la vita per dare la possibilità e l'opportunità di questo voto all'estero. È un voto che si svolge per corrispondenza, tutti i cittadini italiani che sentono all'estero iscritti all'aere o chi è all'estero da tre mesi, può chiedere di votare per corrispondenza. È un voto straordinario, coinvolgente che ti dà l'opportunità di votare per rappresentanti che non sono legati al territorio, alle sue esigenze di carattere di piccolo cabotaggio amministrativo o di grande progettualità, ma deve essere collegata a un desiderio di rappresentanza di una persona o di più persone che possono intraprendere e portare avanti dei progetti. Penso che il voto all'estero oggi ha subito, nei testimoni e nei servizi delle Iene, tutta una grande storiografia che sta nascendo in questo periodo, sta subendo questo istituto del voto all'estero un grande danno. Io penso però che alla fine la voglia di partecipazione attiva agli italiani all'estero vincerà e se ci sono delle persone che con i loro convertimenti contribuiscono a deturpare la significativa voglia del voto per corrispondenza di partecipazione agli italiani, devono essere perseguiti dalla legge. Noi siamo a favore di una politica partecipata, di una politica ragionata e noi ci stiamo cercando il voto ad uno ad uno in tutta Europa. Il collegio estero non coincide con il collegio dell'Unione Europea, così come è notizia di ieri che l'Unione Europea ha negoziato i primi elementi col governo inglese, abbiamo saputo ieri con la nostra grande soddisfazione che l'Inghilterra dovrà pagare, dovrà esercitare tra i 50 e i 60 miliardi di Euro per l'uscita, moltissimi ci stanno ripensando perché oggi l'Europa garantisce di fatto una circolazione delle merci, una circolazione delle idee, una circolazione delle persone. Per quanto riguarda l'Italia mi è piaciuto che il Presidente del Parlamento Europeo, Juncker, ma anche il nostro Presidente italiani abbiano raggiunto l'intesa che qualora ci fossero dei problemi riguardanti i cittadini dell'estero e quindi anche italiani, questi vengono garantiti dalla legislazione inglese. Significa che il negoziato è stato un successo, un successo fragoroso per quelle che erano le potenzialità, per quelle che sono l'Europa, ma come noi sappiamo la uscita soffice della Gran Bretagna avverrà il 19 di marzo del 2020 alle ore 23.59. Ci saranno altri negoziati, ci sono da smussare alcuni angoli per quanto riguarda i negoziati di diritto internazionale, sui commerci, sulle attività di interscambio commerciale. Anche perché diciamo che non era previsto nello statuto originario l'uscita di uno dei Paesi. Infatti c'è una difficoltà insita proprio nei trattati dell'Unione Europea perché quando si firmano i trattati si è legati da un contratto, proprio un contratto che ti lega come il matrimonio indissolubile, però poi scopriamo che questo divorzio avviene con una flessibilità delle direttive europee. È verissimo questa cosa. Secondo lei quali sono le questioni più urgenti da risolvere per gli italiani all'estero? Primo, fare in modo che l'Italia non si dimentichi di questi nostri fratelli. Non dobbiamo dimenticare che la prima immigrazione italiana inizia negli anni 50 in virtù di accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi che allora erano ricchi di carbone, il Belgio, la Germania, la Francia, che utilizzarono con un accordo proprio di Stato le braccia, e tanti giovani italiani come braccia per entrare nelle miniere e l'Italia aveva il vantaggio, uscita dalla guerra purtroppo, voleva arrivare lì e quindi il disastro di Marsenella è la conseguenza che tutte le persone che stavano morendo proprio di fame, stavano di fame, andarono lì a lavorare. Il disastro di Marsenella l'8 agosto 1956 ne fu la dimostrazione plastica di come gli italiani perirono. Oggi la migrazione italiana ha bisogno di una partecipazione democratica e soprattutto una voglia di partecipazione attiva perché non dimentichiamo che questi italiani sono anche le persone che fanno pillo in Italia, nel senso che nel momento in cui i capitali che guadagnano all'estero li portano in Italia guadagnano la differenza tra quello che hanno già pagato all'estero e quello che devono pagare in Italia. Io stesso sono un imprenditore italiano impegnato in Romania nell'attività dell'università, abbiamo questato una fondazione, quindi paghiamo anche le tasse in Italia. Ciò significa che ci vuole coinvolgimento, democrazia, partecipazione, che dobbiamo quindi fare sentire gli italiani che sono all'estero, italiani temporaneamente ubicati in un altro posto, ma italiani che godono di una condizione speciale di essere come afflato umano e quindi accolti dalle istituzioni italiane. Su questa affermazione andiamo in pubblicità e ci rivediamo subito dopo. A dopo. Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al Casino 20+. Per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con Poker 30+, ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre. Diventa partner Domusbet. Chiama all'800 181 980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it. Per noi è tutto un gioco. Tecna Salone Shop. Professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di air care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etnapolis, Valcorrente e a Belfasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 917 677. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. La prima calzatura che si adatta al tuo piede. Per la tua pubblicità su Globus Television chiama il numero 349 144 3134. Nuovamente in studio per la mia rubrica faccia a faccia, qui con me c'è il dottor Giuseppe Arnone e stiamo parlando della Fondazione Italiani in Europa. Ultimamente con le elezioni regionali il presidente Musumeci ha detto che farà di tutto per far partire le imprese perché ahimè il popolo siciliano un po' si è adagiato per quanto riguarda la regione siciliana, gli uffici della regione. Io sono un amico personale del presidente Musumeci al quale ho chiesto anche di velocizzare la pratica che riguarda lo sblocco della consulta regionale per l'immigrazione la quale potrebbe dare anche un impulso imprenditoriale a quelle che sono le aziende siciliane. Per quanto riguarda l'economia siciliana, l'economia siciliana, e lo stesso presidente lo ha affermato giorni fa in un'intervista bellissima sulla Sicilia, dice che per i primi due anni la regione avrà difficoltà a rimettersi in moto in quanto l'avvitamento che c'è stato tra i conti della regione e i conti dello Stato a riguardo la sanità ci costa il 25%, ci sono alcuni capitoli e rubriche di spesa che hanno bisogno di essere sfruttite attraverso una sporbiciata di quelli che sono gli sprechi. Il presidente ha detto che rimettere in moto la Sicilia, ma per rimettere in moto la Sicilia occorre veramente avere una nuova condizione di essere cittadini in Sicilia. Non possiamo pensare di avere solo privilegi e di lamentarci quando una cosa non funziona perché ci riguarda personalmente poi, non lamentarci quando c'è una cosa generale e collettiva. Ci dobbiamo riappropriare di un orgoglio, un orgoglio di appartenere a questa terra sapendo che dobbiamo fare dei sacrifici. Se ne vogliamo per i prossimi decenni, i prossimi anni, fare acquisire una potenzialità per i nostri figli perché se non c'è la consapevolezza che oggi la vecchia politica è finita, che aveva un progetto, che un progetto è stato sconvitto, ma oggi questa classe politica è alla ricerca di un progetto di sviluppo. Non c'è progetto, quindi non è criticabile, non bisogna fare polemiche esteree, ma bisogna avere un progetto. Io spero che il Presidente Musumeci, a quale va il mio augurio di buon lavoro, riesca a intraprendere una strada virtuosa, a rispondere meno alle polemiche e a fare più fatti. Lui ne ha le qualità, non solo etiche e morali, ma anche di buon amministratore. Sono d'accordo con lei, effettivamente è così come dice. Ritornando alla politica italiana, ultimamente si è visto nascere da un po' di anni a questa parte un movimento politico, che è il Movimento 5 Stelle. Cosa ne pensa? È espressione veramente della voce dei cittadini oppure un grande blef? Io ho una chiave di lettura doppia. La prima chiave di lettura è che il Movimento 5 Stelle ha avuto nel suo alveo, e ha nel suo alveo una protesta giusta per certi aspetti, che riguarda l'incapacità di questa classe politica, che vi avevo parlato prima, di un problema di rappresentatività. ha quindi messo dentro di sé, portandolo su un alveo democratico, una parte di protesta, ma oltre alla protesta ci vuole la proposta. Se io vi dicessi, utilizzando quello che Benedetto Croce ebbe a scrivere in maniera esiderante, che riguarda che la politica non ha bisogno necessariamente di uomini onesti, e che utilizzando un esempio, se noi abbiamo una persona in sala operatoria che sta per morire, e il chirurgo è onesto, ma non sa fare l'ingisione per togliere l'appendicite, ad esempio, e quella persona muore, vuol dire che abbiamo una persona onesta che non sa risolvere i problemi. L'onestà è una condizione etica, e bisogna fare una distensione tra etica pubblica e etica personale. L'onestà deve essere certamente un elemento importante per chi fa politica, ma anche la capacità è un'essenza della politica. Sicuramente sì, sono d'accordo. Secondo lei che cosa succederà nel 2018? Purtroppo abbiamo uno scenario politico internazionale piuttosto difficile. Io ci tendo, non sono così fortemente preparato a poter dipingere scenari internazionali, anche se nel collegio in cui mi candido onestamente è un collegio di 3 milioni e 200 mila persone, un collegio di quasi 38 nazioni, perché il collegio Europa della Camera dei Deputati non coincide con l'Europa dell'Unione Europea, ma con l'Europa fisica. Io ci tendo di rispondere. Lo scenario del 2018 ha una possibilità di ragionamento su due tavoli. Il primo, se l'America, la Russia, la Cina, che sono i tre partner più importanti a livello mondiale, non decidono cosa vogliono fare da grandi, non si mettono d'accordo loro, e dentro però ci deve essere un'Europa consapevole del proprio ruolo, di una nazione di 550 milioni di abitanti, di una nazione che ha una storia importante, ma non possiamo mangiare solo di storia. Ma se l'Europa non diventa una vera economia, se non diventa un vero Stato, una vera nazione dove ognuno di noi mette il proprio orgoglio, la propria storia, ma mette dentro anche un vero esercito, una vera politica estera, l'Europa sarà sempre la cenerentola. Addirittura si parla anche della possibilità che il popolo europeo diventerà fra non più tardi di 10-15 anni un popolo a maggioranza musulmana. Quindi è un popolo che deve prendere consapevolezza del che fare. E questo, se una politica non ha una congiuntura non solo favorevole, ma anche un cervello attivo, questo può venire meno perché l'Europa sarà condizionata dai comportamenti di altri Stati, una per tutte. Vi ricordate la bolla che scoppiò in America per quanto riguarda l'acquisizione degli immobili? Certo. Quando le banche facevano comprare i cittadini americani le case? Ebbene, quella bolla l'abbiamo pagata noi. Come no? Se non c'è una vera economia europea che abbia un'unica regia e non delle singole politiche economiche che vengono gestite da una politica, da direttive europee e quindi parliamo solo di parametri di Maastricht, parliamo solo delle banche come i nemici e quindi i cittadini si allontanano, allora c'è la disaffezione. Per uno strumento che è importante, come nasce l'Unione Europea? L'Unione Europea nasce intanto per motivi strategici per evitare che in Europa, che fu lo scenario di due guerre mondiali, dopo la seconda guerra mondiale, Adenauer, Schumann e De Gasperi ebbero questa grande intuizione e quindi fecero una Unione Europea dove ognuno di noi portava qualcosa e prendeva qualcosa. L'Unione Europea non può essere solo misure, non può essere solo finanziamenti a pioggia, non possono essere solo opportunità, non può essere solo cultura, deve essere anche una politica che ha una concezione unica della difesa del territorio, della difesa del proprio essere e del proprio status. Quindi ad esempio nel caso del Trump che ha dichiarato Gerusalemme la nuova capitale di Israele, cinque ambasciatori ONU, tutti europei, si sono dichiarati contro con una dichiarazione. In questo caso anziché una sola persona. Vi ricordate come si chiama il ministro degli esteri dell'Unione Europea? È italiana? Non me lo ricordo. Come si chiama? Non ce lo ricorda? Non me lo ricordo. Federica Mogherini. Avete mai sentito Federica Mogherini fare una dichiarazione univoca? Attenzione, nulla per la persona. È una condizione di grande impossibilità di intervenire perché appunto i commissari europei sono delle deleghe che a turno si danno agli stati per fare dei contentini. Non è possibile che una diventa commissario per la politica estera solo perché Renzi l'ha dovuta spostare su un altro scenario, tanto rispetto per la Mogherini che è stata anche ministro in Italia, ma voglio dire ci vuole un po' di più attenzione e soprattutto ci vuole che la direttiva, la circostanza diventi un fatto tangibile di presenza politica, di sostanza. Sono d'accordo con lei sicuramente. Allora 2018, uno scenario diverso, un'Europa che ha una voce unica. Anzi, ieri l'Europa si è ripresa perché il negoziato con la Gran Bretagna ha segnato un punto a vantaggio dall'Europa perché chi pensava che Boris Johnson o la Teresa May che era molto in affanno in Gran Bretagna potesse vincere un negoziato con l'Europa ha dimostrato che in un rapporto equamine l'Europa è uscita benissimo perché si è riuscita a portare dentro un risarcimento fragoroso, potente dal punto di vista finanziario, ma soprattutto una vittoria nelle condizioni della garanzia dei cittadini esteri di abitare nella Gran Bretagna che avranno gli stessi diritti che hanno i cittadini inglesi. Non so se Londra rimarrà a lungo ancora fino al 2020 certamente, dopo il 2020 se Londra rimarrà a lungo in Gran Bretagna come entità fisica certamente, ma non so come entità economica perché sono convinto che i cittadini di Londra chiederanno di essere in Europa piuttosto che in Gran Bretagna. Infatti si parlava addirittura di fare un referendum che erano quei cittadini inglesi che volevano restare in Europa, inoltre quello che era stato fatto. Ma guardi, una delle cose che non hanno un senso è che la Gran Bretagna che ha avuto una grande potenza nel mondo, ancora oggi si parla di Commonwealth, si parla di nazioni che sono state conquistate ma anche gestite dalla Gran Bretagna, una delle quali è Malta che è qua di fronte alla nostra isola, abbia questa caratteristica dell'isolazionismo che non è spiegabile per un'azione che ha preso tanto dal mondo e che non vuole dare al mondo stesso quello che lei ha preso. Se voi andate al Museo Egizio di Londra vedete i reperti archeologici che sono stati portati dal mondo verso la Gran Bretagna e vi rendete conto di quanto la Gran Bretagna oggi è potenza rispetto però all'opportunità che ha avuto di prendere tanto da tutto il mondo. Voglio dire, si è messa in una condizione di isolamento forse perché presi dalla sbordia di un dibattito interno non perdonero mai a Cameron ed aver inserito l'elemento referendum per vincere le elezioni, si è dimostrato che dopo sei mesi è andato a casa, riprendendo sempre il ragionamento. Oggi la politica ha bisogno di leader veri che non sappiano, che non guidino la nazione per un giorno, per un mese, per un anno ma che quando non ci sono più riescano a poter continuare a fare politica nel diritto ma soprattutto nella condivisione dei grandi elementi che sono la cartina di tornasole, dell'essere cittadino, dell'essere democratico, dell'essere per i diritti. Elezioni 2018, perché la dovrebbero votare? Mi dovrebbero votare perché sono uno caparvio, mi dovrebbero votare perché sono uno orgoglioso, mi dovrebbero votare perché sono uno voglioso di fare. Quindi andiamo tutti alle elezioni 2018, grazie dottor Arnone, il nostro tempo a disposizione purtroppo si è concluso e noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.